A una certa età ti senti da sola, però bisogna per reagire, per uscire e per trovare la compagnia. Il mio rapporto con i chiari è bellissimo, la mamma andava al lavoro e io me l'ho tenuta a casa mia. Oggi con 83 anni è un'emozione fare la pasta, toccare la farina, l'uovo, di fare la pasta, di fare la fettuccina. Bella sentire la pasta, farla, è una cosa bella. Benissimo, va bene, va bene. Questa attività mi dà l'energia, bravissimo, non ti senti mai di sola. A me piace. Grazie. Grazie.